Musica Bella a tutti e compagnia, è qui il vostro Kids che vi parla Oggi ci troviamo con un nuovo video di Battlefield 4 DLC Navastrike Dove presenteremo l'ultima mappa, ovvero isole perdute e l'arma SR2 in compagnia Angel, bella a tutti ragazzi E' inguitabile però sto coso qua, stiamo girando con l'Overcraft ma è più difficile di giocare a Impossible Game Che dire di questa mappa, per me è la seconda più bella del DLC Perché sono tutte isole attaccate l'una all'altra e poi c'è in mezzo questo aereo distrutto Se riesco a fare la kill, se riesco a investire la gente con l'Overcraft, non ce la farò mai, scendite qua Lo uccide lui Bastardo, bastardo E volano, piavano l'elicottero, il nuovo film da Disney come abbiamo già detto precedentemente ma voi non c'eravate Merda, 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 sto bruciando Guarda, guarda sto stronzo, guarda dove sta camperando Raga dico solo che sono morto solo ucciso in azione dal fuoco, però vabbè Che dire di questa mappa, praticamente è una rivisitazione di Lost Perché c'è l'elicottero... cos'era l'aereo di Lost? Era l'800? Ah che cazzo ne so io Che dire anche di questa piccola SR2, nuova arma del geniere, veramente bella, a parer mio Forse è la più potente in questo momento perché precisa... muorici malissimo, ti cadessero i capelli all'età di 15 anni Vanno tutte fessime, sono su D-Max Vai Wow, che è che mi ha spustato? Non lo so, prendi... vieni, 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 vieni Aspetta, dobbiamo andare verso la barca, prongio Ok Gli faccio saltare quello Attenzione BAM 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 Vabbè stavi dicendo... Ho ucciso Deluxe Ho ucciso Deluxe Poverino Ho ucciso uno che si chiama Deluxe Che dire appunto di questa SR2, è una mitraglietta con un rato veramente altissimo ma anche una precisione incredibile Pezzo di merda Portalo questo qua ancora, è lo stesso di prima Oh, seconda volta che muoio per uccisere un'azione dal fuoco Seconda volta Ma ce l'hai questo fuoco te, oh Che cazzo ne so, mi rimane otto di vita, vado sul fuoco e muoio Basta, mi sono rotto a cazzo, siamo alla barca Dicevo L'SR2 secondo me è una delle armi più forti per gli ingegneri insieme forse alla CZ Non mi ricordo come si chiama E anche all'UMP Tu che dici? No, io non l'ho mai provato, so solo che mi sciottano con quella merda di arma Sì, è overbugged E invece che dirvi di questa mappa qua? Ha tutto questo raccimolo Aspettate vi faccio vedere l'ambientazione intanto Ha tutto questo raccimolo di isole, l'una attaccata all'altra Veramente, secondo me è geniale Con la bandiera, che adesso voi qua non la vedete perché stiamo giocando a Assalto porta aerei piccola Che poi non ho mai capito perché è piccola Cioè su PC so che c'è grande anche Oh, guarda sti overcraft Oh, guarda sti overcraft Spara lì, che cazzo parla lì? Non ci muore però Ecco, adesso c'è morto Dove appunto c'è sto cazzo di aeroplano di merda Che tutti quanti ci campano sopra E io ci muoio col fuoco Esatto Morici, morici però, morici Uccisione multiple Sì, bello che fai due kill ti dici uccisione multiple Merda, barchetta, angio riparo, angio riparo, angio riparo, angio riparo Prima o poi finirà Prima o poi finirà Finirà Esplosa? E sono morto Adesso si, c'è morta malissimo Ho ucciso di nuovo Deluxe Leggi? Deluxe LP Guarda lì Guarda quanti sono lì dentro Sto facendo i tumarche perché sto sparando là dentro a uno Ma nel aereo? Merda Che è che mi sta pigliando? Sì, sì Dentro l'aereo ci sono campionati due tizi Oh, mi è finita la bomboletta Scappare Non puoi morire adesso Prego, please Medaglia, attrezzo riparatore, motherfucker Oh, 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 oh Agio, intanto ti sei perso una cosa epica No Corazza attiva Cosa hai fatto? Apparente c'era tipo un overcast che mi è venuto addosso Tipo, mi ha baciato E io E che stai facendo? Eh vabbè però a una certa E in dieci si ti sparano Guarda lì Quanti sono? È presente la pioggia di frecce di 300? Noi avevamo la pioggia di RPG Sì, RPG Elicotteri Qua come al solito piovono elicotteri Ormai sta mappa la chiameremo La pioggia No, questo DLC lo chiameremo Piovono elicotteri Comunque appunto dicevo Questa SR2 Ha un rato di fuoco Veramente abnorme Solo che ha un piccolo difetto Pochi colpi Secondo me Dovrebbero mettere Come in Battlefield 3 Per l'MP7 E non mi ricordo qual era l'altra No, qual è che era l'altra arma che usavo? Cosa? L'MP7 E sto cercando di ricordare Quello Scorpion tipo No No, lo Scorpion è qua CZ Allora, il CZ è qui Non... C'è, comunque va bene Su Battlefield 3 C'erano appunto i caricatori aumentati Ma io sto cercando Un cazzo di... E che ve la fa un tuo culo Aia L'hai sceso? Sì Morto Dicevo Sto... Ah, stare a servizio SR2 Che giovane Dicevo Qua secondo me Dove... Ma quello? E te? Perché non mi fa spanare? Aspetta un attimo Cosa cazzo stai facendo? Lo stai guardando? No, volevo contellarlo Ma era andato troppo lontano Dove... Secondo... Dicevo Se la smettessero di interrompermi Dovrebbero, secondo me Inserire un... Un oggetto nuovo Ovvero i caricatori aumentati Come in Battlefield 3 Perché obiettivamente Secondo me L'MP7 Anche questa qua Che ha un rato di fuoco altissimo I caricatori aumentati ci vogliono Comunque, ragazzi Su Origin Cioè Battlefield Da scaricare Ah sì, infatti Ma mi sono andato Questo video qua esce dopo Cioè devo vedere Vabbè, se riesco Pubblico il lunedì Se state vedendo questo video il lunedì Vuol dire che Ho rispettato le attese Perciò mettete un mi piace in più E che dire Mamma mia Non mi tirano più giù Vabbè Mi è grattato Vabbè Sto rientrando Se questo video lo state vedendo Prima del 3 giugno Cioè Fino al 3 giugno Appunto Cioè Mi sto ripetendo Ma è così Il Battlefield 3 Gratis Origin Hanno deciso di regalare Battlefield 3 Non mi ricordo Cosa c'era Ho detto un motivo Però non mi ricordo Perciò Il motivo principale Battlefield 3 Gratis Punto C'è altro da dire? No Allora è andato A scaricare Quindi Chi l'ha comprato Tipo 5 giorni prima Si può sparare pure Si pensa Tipo Uno Ah oh Sai che oggi ho comprato Battlefield 3 Ah ciao Sai che adesso L'hanno appena messo gratis Cosa? Fuuuuck Cosa? Dalla wallbang Non ci riesce Arriva a Kizzo Nelle fotte Ma io sto morendo Sto morendo Ma io raccolto da terra Oh Dimmi del culo Ho raccolto da terra Un'altra SR E sto C'ho 4 di vita Se qualcuno non mi dà Un kit medico Penso di morire per Lunga incarnita Che c'ho Di fuoco No io ancora Io ancora non ci vado Sul baco angelo Quello lì che volo ha fatto No 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 727 mi pare Si chiama L'aereo di Di cosa Di lost Non lo soo Cos'è stato? Ma non li investo questi Se vanno sott'acqua Porca puttana No se vanno sott'acqua no Va f***o Ah stai gi- No dove era? Guarda C'è in mezzo In mezzo all'erba Questo qua Stava Stava tipo mimetizzando Neanche Neanche Metal Gear Vieni c'è uno da trollare Vieni 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 Arriva Rio Ok C'è uno da trollare Bruttalmente lo vedi Tanto che c'ha Scamato Ah non lo so Anche tu È che c'è morto malissimo Lo brucia Lo brucia Lo brucia Lo brucia Oh 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 Eh già dove stai volando Eh? Sei tipo volatissimo via Ah non lo so Intanto io che aro Cioè io veramente Ma ogni tanto penso di essere Jesus Perché Mi fanno certi marker Che metà ne basta Ma quello lì è ancora lì Porca Eva Ma muorici È quello che mi ha ucciso prima Con il deficiente Lo becco lo becco lo becco Non è che ci vuole tanto a peccarlo È importante ucciso Bastardo Ma come fa a prendermi Atraverso Le rocce Veicolo ha distrutto Ti prende attraverso le rocce Lui Ma guarda che è sceso Andiamo a prenderlo Andiamo Allì Ti vengo a prendere a casa Dai Dov'è? Brucialo Brucialo Ok Abbiamo perso Sai che No a parte di scherzi Non stavo seguendo in mente il gameplay Dai io ero convinto Che stavano giocando conquista Quanto sono ritardato Eh ragazzi Quanto sono ritardato Ero convinto Che stavano facendo conquista Noi Ma no Ma no No sono un pirla Eh vabbè Eh vabbè Vabbè quanto ha fatto? 26.5 Dai non è andata poi male Vabbè Tu quanto hai fatto? 2.3 Vabbè poi Però a te sei anche uscito Allora ragazzi Il video finisce qua Anche se è durato abbastanza poco Perché comunque Non ce ne siamo minimamente accorti Di quello che sta succedendo Però vabbè Ce la siamo cavata egrigiamente Gli altri hanno fatto risultati di merda Però abbiamo perso comunque Che ne pensate di questa mappa? Velocemente? Eh sì Bella Mi è piaciuta Però io direi una cosa Spegnete quel cazzo di fuoco no? È più bella Frangifluddi 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 No a me non mi piace quella Non mi piace Comunque Allora ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace E un commento Iscrivetevi al canale Se non siete ancora E passate la pagina Facebook E state sotto in descrizione Insieme al canale di ProGaming Italy Giusto? Certo Esatto E ringrazio Angel Per la miniatura che mi farà In questo momento Vero? Certo È importante crederci Esatto E noi ci vediamo Nel prossimo video Bye Ciao